Io torno a ripetermi, un timore che nell'unica intervista rilasciatemi dal mister Troiano mi aveva... Buona stavolta la palla per Fiorino, scusa Gio Battista, Nilo, no! Alfonsi, 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 i gol di Alfonsi che mette la palla in rete con uno splendido colpo di testa! Era soltanto l'unico modo per riuscire a schiodare questa partita che ci sembrava, insomma, ci aveva tutti legati, ecco, era l'unico modo. Io mi ho messo a giocare. Dunque Gaeta in vantaggio, quarantaduesimo minuto. Grazie. 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 Grazie.